In questo istituto sono detenuti esattamente il doppio delle persone che questi luoghi potrebbero contenere a fronte di un sottodimensionamento del personale che è spaventoso, ma vi dico i numeri, parliamo di 1.400 detenuti con 600 agenti in servizio. E il sovraffollamento, uno dei problemi del carcere di Lecce, come constatato da un sopralluogo effettuato dalla senatrice Laria Cucchi, che ha poi parlato di una situazione di sofferenza all'interno della casa circondariale Borgo San Nicola, non solo da parte dei lavoratori ma anche dei detenuti costretti a delle rinunce, poiché al problema del sovraffollamento si aggiunge quello della carenza di personale in servizio. Il carcere diventa una sofferenza per il detenuto ma anche per chi è qui dentro è costretto a lavorarci. Questa sofferenza è evidente. A rimetterci come al solito sono i diritti, i diritti ovviamente dei lavoratori, ma dobbiamo dirlo soprattutto dei detenuti che devono rinunciare spesso a fare dei corsi di formazione per carenza di personale, che devono rinunciare, e questo è molto più grave, a volte addirittura anche a curarsi per carenza di personale. Un'altra carenza riscontrata dalla senatrice Cucchi riguarda quella degli psichiatri, una figura fondamentale per i detenuti. Per quanto riguarda le patologie di tipo psichiatrico, c'è un numero elevato di detenuti affetti da questo tipo di problema. Ci sono al momento solamente due psichiatri, siccome sappiamo, lo so io, ma meglio di me lo sanno i garanti, quanto poi vivere in situazioni del genere possono contribuire all'aumentare del numero dei suicidi, io direi che la vera emergenza diventa quella di mettere mano a questo aspetto che sembra nessuno stia prendendo in considerazione. Grazie a tutti.